A Lucera parte la caccia agli obiettori della raccolta differenziata. L'assessore all'igiene urbana di Croce, infatti, con un duro comunicato, informa la cittadinanza che sono attivi da oggi numerosi apparecchi di videosorveglianza, raggi infrarossi, dotati di sensori di movimento e capaci di riprendere immagini anche in assenza di luce. Questa strumentazione è stata affidata al comando dei vigili urbani e al corpo delle guardie ecologiche volontarie ed è finalizzato a reprimere i comportamenti incivili di alcuni cittadini che da tempo rifiutano di seguire le norme sulla raccolta differenziata, abbandonando i rifiuti urbani in zone periferiche ma anche in alcune vie del centro storico. I danni che questi trasgressori provocano a tutta la comunità sono enormi, recita ancora il comunicato, e si traducono sia in danni economici per una maggiore quantità di rifiuti indifferenziati, che vuol dire un maggior costo nella bolletta Tari, e sia in termini ambientali, con negative ripercussioni sul decoro urbano e sulla salute pubblica. Il Comune di Lucera ha già fatto degli appostamenti nel corso delle ultime settimane e diversi cittadini sono stati colti in flagranza di reato ad abbandonare elettrodomestici, materassi, mobilio ed altri rifiuti non strettamente domestici lungo le strade cittadine. Tutto ciò può costituire un reato di rilevanza penale e pertanto le immagini catturate dalle apparecchiature installate saranno inviate alla magistratura. I cittadini indisciplinati quindi rischiano grosso. A tal fine il Comune ricorda che è attivo un servizio gratuito e a domicilio per il ritiro di rifiuti ingombranti. La cittadinanza adesso è avvisata.